Io credo che comunque non appena ci sarà l'ufficialità della mia candidatura partiremo, abbiamo tenuto e per questo abbiamo aspettato un po' di tempo le porte aperte a tutte le forze che volessero partecipare perché era ed è nostra intenzione vincere al primo turno. Devo dire che non siamo stati fermi in queste settimane, abbiamo lavorato sotto traccia, abbiamo incontrato tante persone, stiamo coinvolgendo tante persone, le migliori esperienze, le migliori intelligenze della città che si vogliono mettere intorno a un gruppo, intorno alla nostra coalizione per cambiare l'amministrazione della città che è stata per 5 anni mal governata. E' un Daniele Spada che parla già da candidato sindaco a dimostrazione che la Lega è sempre più convinta di spuntarla alla fine dei giochi. L'ufficializzazione del candidato a primo cittadino di Prato, del centrodestra, arriverà però soltanto dopo il tanto atteso vertice nazionale tra i partiti della coalizione, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, che però non è stato ancora fissato. Per Rita Pieri che gode del sostegno del suo partito, Forza Italia, di Energia per l'Italia o di C, il braccio di ferro con Spada sta disorientando l'elettorato di centrodestra. Assolutamente sta indebolendo, il nostro elettorato è sgomento, è disorientato, ne sono assolutamente consapevole e credo che insieme a me sono le dirigenze e non solo. E quindi voglio dire che bisogna assolutamente mettere un punto, mettere un punto ed andare avanti con una persona. Io confido molto in questo tavolo nazionale o comunque questo confronto nazionale che dovrebbe portare ad una decisione. Mancano appena due mesi alle elezioni amministrative ma questo non sembra preoccupare il commissario provinciale del Carroccio, Andrea Recaldine. Non ho motivo di essere preoccupato, abbiamo il vento in poppa, la città ci chiede, vuole una rivoluzione, vuole cambiare modo di governare, abbiamo il contesto nazionale favorevole, abbiamo vinto le ultime sette dispute, abbiamo già un programma fatto e lo stiamo costruendo con i nostri cittadini. Io ho un problema apposto nel fare le liste che mi toccherà probabilmente fare anche un'altra lista civica a sostegno di Daniele oltre a quella della Lega perché ho talmente tante persone che vogliono entrare in lista che potrei essere costretto a fare un'altra lista. Ha già deciso tutto lui, ha già deciso il candidato a sindaco, ha già deciso il programma, ha già deciso qualunque cosa, forse avrà già deciso anche la Giunta, non lo so, senza dirci nulla, avrà deciso anche già il Presidente. Ah, me lo male, grazie a Dio. Però il programma noi l'abbiamo sempre avuto molto chiaro, sempre spesso, poi chiaro se diventa, quando sarà un programma di coalizione chiaramente verrà toccato. Cioè questo conferma il metodo di tutoriale che ha la Lega nei confronti degli alleati e non mi sembra una correttezza. Vede, la politica non è altro che una questione di rapporti di forza, per cui io posso concepire e accettare anche, ci mancherebbe altro, la legittima posizione di qualcuno che rivendica una condivisione, una discussione e quant'altro. Poi però bisogna andare al vedo, al momento del vedo, come nel gioco delle carte, e verificare quali sono questi tipi di rapporti di forza e i vari pesi. E bisogna anche essere coerenti e essere pragmatici nell'accettare questi tipi di rapporti di forza.